Cos'è che non va bene qua? Tutto tranne te. Tu stai scappando. Appena arrivo a Londra ti chiamo. Sarà strano sapere che non ci sei. Quanto sarà passato? Quattro anni? Cinque. Non ci perdiamo un'altra volta, te lo prometto. È stata una bella avventura. Già. Noi pensavano di essere speciali, Matteo. E invece no. Sulle note delle canzoni di Lucio Battisti Un'avventura Questa sera, 21 e 20, Rai 3